Ciao a tutti Oggi vorrei condividere con voi alcune frasi in italiano che potrebbero tornarvi utili durante il vostro viaggio in Italia Queste frasi vi aiuteranno a comunicare con le persone del posto, a chiedere indicazioni, a ordinare cibo e molto altro ancora. Andiamo 1. Saluti e presentazioni Ciao, mi chiamo Piacere di conoscerti Come stai? 2. Chiedere indicazioni Dove si trova? Come posso arrivare a Mi sono persa. Può aiutarmi? 3. Al ristorante Vorrei ordinare 4. Questo piatto è delizioso 5. Posso avere il conto per favore? 4. Fare acquisti Quanto costa? 5. Accettate carte di credito? Posso provare questo? 5. In caso di emergenza 5. In caso di emergenza Dove è l'ospedale più vicino 6. Posso usare il tuo telefono? 6. Chiedere aiuto 6. Lei parla inglese? 7. Non capisco Può ripetere per favore Può scrivere per favore? 7. In hotel 7. In hotel Ho una prenotazione a nome di 8. A che ora è il check-out? 8. La stanza All'aria condizionata 8. I trasporti 9. Dov'è la stazione dei treni? 9. Quanto costa un biglietto per 10. A che ora parte l'ultimo autobus? 9. Attrazioni turistiche 9. Attrazioni turistiche Quali sono le principali attrazioni turistiche qui? 10. Quanto costa l'ingresso? 10. A che ora chiude? 10. Fare i complimenti 11. Il tuo paese è bellissimo 11. La tua città è molto accogliente 11. La cucina italiana è deliziosa 11. Ricorda La pratica rende perfetti Quindi, prova a usare queste frasi il più possibile durante il tuo viaggio Buon divertimento in Italia! Buon divertimento in Italia! Buon divertimento in Italia! Abbiamo attrazione!